Buonasera, buonasera a tutti. Poco meno di un anno fa lo scrittore Esmaillon a Berlino tenne un discorso destinato a vivere nella coscienza di ognuno di noi, destinato persino a sopravvivere alla coscienza di ogni singolo individuo che è per sua natura motevole e contraddittoria. Partendo da un sogno, ha descritto come meglio non avrebbe potuto il concetto stesso della democrazia. Il sogno è di restituire ad una comunità libera di autodeterminarsi la forma di governo da loro prescelta, il cui potere verrà esercitato dal popolo in nome del popolo, tramite rappresentanti liberalmente eletti, dove il popolo tornerà ad essere il centro del suo governo e non viceversa. Nelle coscienze di chiunque oggi intenderà utilizzare il termine democrazia nella sua accezione più alta, non potrà non albergare col breve discorso inteso come quale baluardo di lucidità democratica, che ha avuto quale paradossale punto di partenza, proprio quel sogno che dopo oltre 40 anni ha bisogno di essere interrotto, trasferito nella vita reale. Il Freedom Iran World Summit è questo, è la narrazione alternativa e veritiera del risveglio, dell'inarrestabile desiderio di libertà praticato dal coraggiosissimo popolo iraniano, in quel che silentemente è un'animamente definibile quale la più coraggiosa e progressiva rivoluzione di tutto il Medio Oriente. Sono donna, sono una politica, sono una persona libera. E il bacio di Shiraz reserà per sempre, nella traduzione universale, dei termini di coraggio e libertà, la sua immagine più identificativa. L'icona assoluta nelle quale le nostre coscienze devono identificarsi, l'immagine nella quale io mi identifico. Questa immagine ha travalicato gli aspetti più nefasti del regime, soppiantandolo con tutta la sua potenza, l'incubo della sofferenza con il sogno della libertà, perché sarà il punto di partenza del nuovo Iran. I giovani e il loro particolarissimo coraggio, una generazione di uomini e donne coraggiosi, coraggiosissimi, cresciuti sì in un regime, eppure lucidi, sempre coscienti, mai soppiti nella pregrizia della sottomissione, risvegliati e coraggiosi, al punto da sentire dentro che un'alternativa era possibile, un'alternativa democratica allo stato ideologico e sociale che depriva da generazioni i loro talenti, dalle loro legittime aspirazioni. Immediatamente dopo la morte di Masha Amini, migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il paese, ma a differenza del passato, in modo molto più ampio ed inclusivo, senza distinzione di ceto sociale, con una rabbia democratica che ha contagiato davvero tutti. Un'onda di sdegno che ha montato la sua forza dirompente, coinvolgendo persino i più silenziosi e distratti protagonisti della vita sociale iraniana. Anche chi si è sempre voltato dall'altra parte, questa volta non ha avuto modo di vedere altro se non la verità. Questa volta, più di altre volte, il grido di dolore è pervenuto ed è coinvolto nuovamente le donne, che sfidavano un regime apertamente e dichiaratamente misogino, divenendo esse stesse lo specchio dove il regime ha riflesso la sua fragilità ideologica. Impegnato sempre più nello screditamento delle opposizioni piuttosto che nella salvezza del suo popolo, evidenziando la distanza siderale esistente tra l'ideologia e i desideri della società reale iraniana. Desideri semplici, come semplice, è l'elevatissimo concetto di libertà e democrazia. Al di fuori dell'oderno Iran esiste letteralmente un altro Iran. Uomini e donne che hanno avuto l'opportunità di poter dire come stanno realmente le cose. Un intero popolo al di fuori dei confini nazionali che democraticamente esprime dissenso attraverso la democrazia stessa. Al di fuori dell'Iran odierno ci siete voi. C'è la vostra voce, che ha il compito e il dovere di non vanificare l'impegno e il coraggio di chi, oltre alla voce, ci ha messo anima, corpo e vita. I numeri drammatici della repressione in atto sono noti a tutti, ma a tutti deve essere noto che il mondo non deve prescindere dal contributo sociale e culturale che un Iran libero può e deve offrire a tutti noi. La solidarietà verso il vostro popolo è senz'altro il passo giusto da tenere costante attraverso la lunga marcia politica già intrapresa. Perché la politica libera e solidale dovrà offrire gli strumenti attraverso i quali il sacrificio di chi è rimasto a combattere ogni giorno per un ideale semplice di libertà, troverà conforto, sicurezza e appoggio. Il percorso è tracciato. Incontri come quello odierno sono l'anticamera di quanto è destinato ad avvenire. Perché voi siete diretta a promanazione di chi in questo momento non è libero di esprimersi e siete la maggioranza. La stragrande maggioranza. Perché dietro ognuno di noi vi sono milioni di persone che non chiedono altro che una leadership competente, organizzata e strutturata, riconosciuta a livello internazionale, così da rappresentare concretamente un'alternativa valida e credibile ad un regime che abilmente riesce ancora a sopravvivere a se stesso. Quest'onda si è mossa, per una ragione o per un'altra, spesso percorrendo i più impescrutabili ed inaspettati percorsi. L'acqua del vostro mare ha trovato la via. Una notissima canzone italiana recita nel suo ritornello più noto che uno scoglio non può arginare il mare ed infatti no, non può. Grazie.